Ciao a tutti ragazzi, oggi video un po' chiacchiericcio, ho preso spunto dall'ultimo video pubblicato da Claudia, lì se legge, lì se viaggia, intitolato Classic and Contemporary Pears. A sua volta Claudia ha preso spunto dal video di una ragazza statunitense, che io non conoscevo e ho conosciuto grazie a Claudia, in cui si creano delle coppie a partire da un libro classico, un libro contemporaneo. E quindi si va a sottolineare tutta quella sorta di influenze, di richiami, di citazioni più o meno esplicite, che possiamo ritrovare i libri contemporanei di libri poi classici. Ed è una cosa che a me piace tantissimo fare, lo sapete, quando vi parlo di un libro contemporaneo vi dico sempre le influenze, i richiami, le ispirazioni classiche, più o meno ovviamente classiche, che ci ho visto. E quindi trovo che questo sia sicuramente un format molto, ma molto incline alle mia corda. Soprattutto vi volevo dire che approvo in pieno il discorso introduttivo di Claudia all'interno del suo video. Lei ha fatto riferimento tra l'altro a un video di Selvaggia, in cui Selvaggia propone delle coppie di libri da leggere uno seguito all'altro, come se fossero appunto dei percorsi di lettura. Anche quello è un video molto, ma molto interessante, un format che offre tantissimi spunti di ispirazione per letture future, nonché poi dalla parte di chi va a creare il video, è sicuramente un altro di quei video che ti permette di giocare con le letture effettuate. E quindi lo vedo molto interessante sia dall'una che dall'altra parte. Comunque entrambi i video ve li metto giù sotto. E tutto questo per dirvi come poi coppie di libri si possano creare in modi più disparati. Veramente si può parlare di influenze, si può parlare di percorsi di lettura, ma si potrebbe parlare di tante altre cose. Comunque partiamo subito con le mie coppie. Per cominciare con il libro che avevo in lettura nell'ultimo Get Ready With Me, vi parlo dell'Arcobaleno della Gravità. Nell'Arcobaleno della Gravità, pubblicato nel 73, quindi lo ritengo ancora un classico contemporaneo, passatemi questo termine, comunque ci sono alcuni richiami a delle favole. Infatti alcuni percorsi narrativi, alcuni ruoli di alcuni personaggi seguono da una parte Hansel e Gretel, la favola dei fratelli Grimm, dall'altra invece seguono il mago di Oz. Ci sono alcuni richiami e alcuni personaggi sono appunto il parallelo dei personaggi del mago di Oz. E' molto interessante leggere l'Arcobaleno della Gravità, poi andando ad individuare i diversi meccanismi narrativi delle due favole, e come poi Pynchon attraverso quei meccanismi ci voglia comunicare qualcosa, quello che poi sarà il percorso dell'eroe dell'Arcobaleno della Gravità. Perché come vi dissi nel Get Ready With Me, ma comunque sia dell'Arcobaleno della Gravità, ve ne parlerò meglio e in maniera più approfondita nel wrap up di fine mese, Thomas Pynchon riprende il viaggio dell'eroe, quello che è poi la struttura archetipo di qualsiasi storia narrativa, e quindi l'inizio, lo svolgimento e la fine. Ovviamente detta così è in maniera molto scheletrica, però il viaggio dell'eroe è veramente la base su cui si pone, lo scheletro di un personaggio dell'Arcobaleno della Gravità. Continuando con un libro più recente, vi voglio citare La macchia umana di Philip Roth. Anche di questo ve ne ho parlato in un video specifico. La macchia umana fa esplicito riferimento a La morta a Venezia di Thomas Mann, che tra le altre cose io ho avuto anche la fortuna di leggere prima La morta a Venezia e poi La macchia umana, senza veramente avere conoscenza del richiamo che veniva fatta all'interno della macchia umana. Infatti nella macchia umana viene fatto questo riferimento da Zuckerman, che è poi l'alter ego di, o comunque sia uno dei personaggi di Philip Roth, che Philip Roth appunto va a riprendere in più romanzi, tant'è che si parla proprio di una saga di Zuckerman. E Zuckerman fa un parallelismo tra Coleman Silk, il protagonista della macchia umana, e poi il letterato della morta a Venezia di Thomas Mann, che troverà poi la morte a Venezia in seguito poi all'infatuazione con un uomo più giovane. Ovviamente la cifra moralista che c'è nella morta a Venezia di Thomas Mann è totalmente esente nel libro di Philip Roth e soprattutto nel paragonare i due personaggi di Nathan Zuckerman. Quindi è un parallelismo che viene fatto però senza trovare poi una congiunzione, ma addirittura per contrasto. Poi mi sono segnata Un uomo che dorme, anche di questo ve ne ho parlato ultimamente, Un uomo che dorme di George Perrec, la storia di questo ragazzo di 25 anni, che decide di non alzarsi dal letto per andare a sostenere un esame. Da lì inizierà un periodo sabbatico in cui lui si priverà della vita attiva e passerà una vita a dormire o comunque sia ritirata. Nel libro di George Perrec si fa riferimento a Bartleby lo scrivano di Melville. Bartleby lo scrivano è stato pubblicato alla fine del 1800, è appunto la storia di questo scrivano che da un giorno all'altro qualsiasi cosa gli venisse richiesta, lui rispondeva preferirei di no. Ed è una sorta di dissidente come lo è anche il personaggio di George Perrec. Hanno una possibilità, una chiave di lettura diversa e può essere aderente al periodo storico in cui poi il romanzo viene scritto. Perché ovviamente per quanto riguarda Melville parliamo della fine del 1800, parliamo degli Stati Uniti, di New York. Invece per George Perrec parliamo della fine degli anni 60, parliamo di Parigi e quindi parliamo totalmente di un'altra epoca, cent'anni di differenza, ma è un diverso modo di dire di no. Anche se poi riprende una struttura medesima. In questo video ho soprattutto selezionato dei libri che ho letto da poco, in cui le influenze nella mia mente sono più fresche. Infatti vi voglio citare Ferrovie del Messico. Ferrovie del Messico è stato celebrato come un nuovo vid di Thomas Pynchon, un nuovo I Detective Selvaggi di Roberto Bolagno e ci ho visto per lo più delle influenze italiane. Ci ho visto tanto Peppe Fenoglio con il suo partigiano Johnny, ma tutta la trilogia della resistenza di Fenoglio. Ci sono dei richiami anche a Gadda, soprattutto in un personaggio ne ho visto un grandissimo richiamo a quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. Ma ci sono anche dei richiami a Grazia De Lede, anche qui in un personaggio. Un ruolo mistico all'interno della storia di Gianmarco Griffi. Anche di Ferrovie del Messico ve ne parlerò appositamente, in maniera più approfondita nel prossimo VropUp. Come vi parlerò anche della Città della Vettoria di Salman Rushdi, un libro che ho letto all'inizio del mese di marzo, quindi l'ho letto veramente a ridosso dell'uscita, perché è uscito di recente. Mi è piaciuto sì, con qualche riserva, nel senso non ho gridato al capo lavoro, non mi ha fatto impazzire. È una sorta di favola epica. Più che favola direi proprio è una parabola epica, ma per parabola toglierei anche l'accezione cristiana che abbiamo della parabola. Si tratta appunto di un racconto fantastico. Io ci ho visto tantissimo Borges. Quando leggevo La Città della Vettoria, giravo le pagine e dicevo io ho sensazione fortissima di déjà vu. Sono andata su Google e ho googlato Salman Rushdi Borges e mi è uscita fuori un'intervista parecchio recente, perché parliamo forse del 2020, in cui il Salman Rushdi appunto raccontava, mi pare fosse a Firenze, della sua influenza con Borges. Praticamente diceva che un giorno era stato all'interno di una biblioteca e aveva visto, mi pare, Finzioni di Borges. L'aveva preso e aveva iniziato a leggerlo e lo leggeva così, in piedi, buttato da una parte. Il libraio, quindi era una libreria probabilmente, non ricordo, non ricordo se era una libreria o una biblioteca, comunque chi gestiva la biblioteca o la libreria, gli disse ma che fai non lo compri, quindi è una libreria. Si stava in una libreria, il libraio gli chiede a Salman Rushdi o lo compri o smetti di leggerlo. Ed allora nasce appunto questa profonda fascinazione di Salman Rushdi verso Borges. E la cosa è visibile nella Città della Vittoria, primo libro che leggo di questo autore indiano. Non ho letto altri libri, quindi non so dirvi se la cosa sia proprio una sua impronta stilistica. Il fatto sta che La Città della Vittoria è un grandissimo richiamo al racconto fantastico dell'autore argentino, a cui però si aggiungono delle cifre stilistiche non proprie di Borges e quindi identitarie della figura di Salman Rushdi, quale ad esempio una profonda riflessione sulla narrazione, su come attraverso la narrazione si crea una realtà e si possa creare anche la storia di un paese. e questo è un discorso letterario che è molto attuale e che riprendiamo in più libri della contemporaneità. Non a caso vi vorrei parlare adesso di Wittgestein. Wittgestein è appunto colui che disse, il filosofo che argomentò il fatto che la realtà è tale soltanto se viene narrata. Una cosa è reale soltanto nel momento stesso in cui le parole le danno la cognizione, nella plasticità. E questo concetto è stato ripreso da più parti. Primo fra tutti David Foster Wallace che ne ha fatto una tesi di laurea da cui è stato poi tratto il romanzo La scopa del sistema. Nella scopa del sistema ci sono tantissime parti, ma ce n'è una in particolare che poi dà il titolo al romanzo che spiega in maniera fenomenale il concetto di Wittgestein. Ed è un romanzo che io vi consiglio se volete approfondire il discorso metal letterario di Wittgestein. Altro libro che riprende sempre il concetto di Wittgestein è il senso di una fine di Julian Barnes. Anche qui siamo di fronte ad una possibilità di realtà e qui abbiamo l'accezione sul futuro e quindi sulle conseguenze del futuro nei personaggi di una realtà che viene narrata. Il discorso di Wittgestein e della realtà soltanto quando viene narrata è però meno evidente rispetto alla scopa del sistema. Rimane tutto molto più legato alla narrazione. Un libro che invece ha un riferimento esplicito con Wittgestein è L'amante di Wittgestein. L'amante di Wittgestein è un libro abbastanza folle perché è il monologo di una donna che crea attraverso la narrazione una realtà e soprattutto ne crea molteplici. La narrazione dell'amante di Wittgestein è particolarissima perché è fatta da frasi da frasi a sessanti tantissime citazioni filosofiche citazioni letterarie queste frasi poi vengono riprese nel corso del romanzo perché non si può parlare propriamente di storia per l'amante di Wittgestein perché non c'è una trama narrativa forte e queste frasi vengono riprese per essere poi ingigantite o anche per essere contraddette. Infatti il narratore, la narratrice dell'amante di Wittgestein è la narratrice inaffidabile per eccellenza e quindi la narratrice postmoderna. Attraverso poi la narrazione si verrà a scoprire perché questa donna si è ritirata a vita privata e qual è stato il trauma nella sua vita. È un libro altamente sperimentale ma che secondo me sottolinea in maniera molto particolare e lo rende particolarmente letterario il discorso di Wittgestein sulla narrazione. Vi voglio inoltre citare Cartarescu con Melancolia. Melancolia di Cartarescu è una raccolta di racconti, sono cinque racconti in cui ci sono alcuni richiami a Borges ma il grande richiamo che viene fatto è a Kafka. Infatti c'è il racconto finale di Melancolia di Cartarescu che non è altro che una riscrittura o un possibile finale di quello che poi è il castello di Kafka. Libro che inoltre non posso non citarvi è Tutto il ferro della torre fell di Michele Mari in cui i riferimenti letterari sono tantissimi. Ci sono addirittura autori come Céline, come Walter Benjamin, come storici, come Bloch che diventano dei protagonisti della storia. Parlare veramente di un solo libro che ha ispirato Michele Mari per Tutto il ferro della torre fell è veramente riduttivo. Però possiamo veramente elencare qualche autore. Il primo fra tutti è Céline. Céline è l'ombra come Hitler all'interno di Tutto il ferro della torre fell rappresenta il cattivo come Hitler rappresenta il cattivo della storia. Céline rappresenta il cattivo della letteratura. Poi abbiamo anche Proust. L'altra faccia della letteratura francese c'è tantissimo Kafka ma ce ne sono tantissimi altri. Veramente sono tantissimi i riferimenti letterari a tutto il ferro della torre fell. Poi vi volevo anche citare Leggere l'olità a Tehran di Azarnafisi. Leggere l'olità a Tehran vengono analizzati quattro autori americani tra cui Jane Austen Francis Scott Fitzgerald Nabokov e Harry James. La cosa bella di Azarnafisi è che parte dalla vita quotidiana da quello che potrebbe essere un suo memoir in ricordare il suo ritorno in Iran le difficoltà che ha incontrato nel professare un libero insegnamento della letteratura statunitense e poi la sua presa di posizione nel lasciare prima l'insegnamento e poi l'Iran. È bello partire da quella cifra quotidiana da quella cifra autobiografica e poi vedere come la letteratura anche una letteratura lontana da quella iraniana come la letteratura statunitense si possa tessere all'interno della vita quotidiana di Azarnafisi e delle sue studentesse e poi trovare un rispecchiamento all'interno poi dei romanzi. Questa è secondo me l'evidenza di quanto poi la letteratura possa essere potente e possa essere attuale quanto poi i classici siano attuali e siano sempre contemporanei. L'ultimo libro che vi voglio citare è Le Ore di Michael Cunningham Le Ore è un omaggio a La Signora Dalloway di Virginia Woolf tant'è che Le Ore è basato su tre piani narrativi di cui uno appunto è Virginia Woolf ma al quale poi si aggiungono altri due piani internarrativi uno ambientato negli anni 60 negli Stati Uniti e l'altro invece ambientato alla fine degli anni 90 che ha come poi tematica principale l'IBS. Michael Cunningham inoltre andando a riprendere La Signora Dalloway di Virginia Woolf non ha fatto poi che riprendere il personaggio di una scrittrice che non faceva altro che elogiare i classici di Jane Austen e poi sottolineandone come Jane Austen fosse attuale per lei agli inizi del 1900 a distanza poi di parecchi decenni e niente ragazzi questi erano i miei abbinamenti classico contemporaneo mi piacerebbe rivedere questo format di cui ringrazio ovviamente Claudia per avermelo fatto conoscere ma mi piacerebbe rivederlo proposto in altri canali tra cui quello di Selvaggia di Lia di Alice di Maria Chiara di Alessia spero di aver detto di Sebastiano e se mi sono dimenticata qualcuno ma sicuramente mi sono dimenticata tante persone non non fate meno una colpa sentitevi tutti veramente taggati io vi saluto vi ringrazio e vi auguro buone letture ciao ciao